E' un continuo botta e risposta per le strade di Bologna in periferia come sotto i portici di Piazza Maggiore. Domenica a Bologna si fronteggeranno in un referendum consultivo, quindi non vincolante, due visioni diverse della scuola. Da una parte quelli che vogliono abolire il finanziamento, alle scuole di infanzia private un milione di euro che arriva, le scuole paritarie che colgono bambini dei 3 ai 6 anni dall'altra, quelli che ritengono che l'attuale sistema di finanziamento serva a garantire un adeguato livello di scelta a tutti i cittadini. Il sistema pubblico è fatto da tre gambe, che sono le scuole statali, le scuole comunali e le scuole paritarie gestite da enti privati. Questo non lo dico io, ma lo dice una legge dello Stato che è la legge 62 del 2000. Quindi il sistema pubblico è fatto da queste tre entità, se togliamo una gamba togliamo un pezzo di sistema pubblico. Quindi per sostenere il sistema pubblico bisogna votare B perché questo garantisce una pluralità e una universalità di servizio ai bambini da 3 a 6 anni. Non sono scuole pubbliche, sono scuole che hanno una convenzione con il comune. Il pubblico è quello che dà accesso a tutti, che è un diritto, è una scuola aperta e che non bisogna pagarla. Con quel milione il comune potrebbe ospitare 150 bambini, mentre le paritarie ospitano 1736. Ci bisogna di essere ragionieri per fare un po' di conti. Quindi quel milione non risolve il problema dei buchi, perché al massimo potrebbe arrivare a 180 bambini, mentre i buchi sono molto più consistenti. Il vero problema è convincere lo Stato a trattare Bologna come le altre città e allora saremmo opposto. Una bugia enorme è che dicono se noi togliamo quei finanziamenti, quel milione di finanziamento alle private, praticamente ci sono 1700 bambini che rimarrebbero a casa. È madornale proprio. Prima di qualsiasi finanziamento le private esistevano, avevano 1660 bambini 18 anni fa, senza una lira dal comune. Una disputa che è partita da Bologna. Il referendum è stato promosso da una quindicina di associazioni che hanno raccolto poco più di 13.000 firme ed è salita presto di livello, arrivando a coinvolgere esponenti politici di primo piano, ma anche big del mondo, dello spettacolo e non solo. La discussione andrà avanti ancora per due giorni prima che i bolognesi possano esprimere il loro parere nelle urne aperte domenica fino alle 22.